immaginate di essere nel bel mezzo di una spedizione subacquea di essere sorpresi dalla visita inaspettata dei padroni di casa con la madre lontano in cerca di cibo questi cuccioli di foco sono infatti in vena di fare nuove amicizie e il modo in cui ispezionano questi fortunati viaggiatori nell'oceano è decisamente adorabile